Nelson Mandela è di nuovo in ospedale ma la famiglia rassicura solo una visita programmata da tempo. L'ex presidente sudafricano e premio Nobel per la pace, che ha 94 anni, nel dicembre scorso era stato colpito da un'infezione polmonare e si era temuto per la sua vita. Il nuovo ricovero assicurano è solo per effettuare i previsti controlli.